Ciao a tutti! Ciao! Oggi sono in compagnia di Ilaria che è la vincitrice del concorso fotografico Io Mangio Sano che è stato organizzato su Facebook dalla mia amica nonché collega Cinzia Bleve ed oggi prepareremo, perché la fortuna di Ilaria è stata quella proprio di vincere una video ricetta con me quindi prepareremo la sua ricetta vincitrice che si chiama Ilaria? È un'insalata di calamari e gamberetti molto facile da preparare come sempre e abbastanza sana e salutare e gustosa Quali sono gli ingredienti per questa ricetta, Ilaria? Gli ingredienti sono un finocchio, 100 g di calamari giallessi, olio, pepe, olive nere, sale e noci quanto basta un'arancia, 100 g di gamberetti giallessi Perfetto Ilaria! Adesso non ci rimane altro che dare il via alla nostra ricetta che naturalmente ci preparerà Ilaria Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!